bella ragazzi oggi sono qui come vi avevo promesso per fare il root su dispositivi android il programma in questione è kindle root però prima di tutto bisogna andare in menu impostazioni andate giù in basso fino alla fine fino a trovare opzioni sviluppatore cliccate sopra mi uscirà una pagina tipo debug usb rimane qui o posizione verifiche insomma rispetto a qui scala animazioni finestre porti su più insomma cose così dovete schiacciare su debug usb dovete attivarlo mi raccomando se no non funziona attivatelo una volta che l'avete attivato aprite il programma king root che prima di aprirlo vi faccio vedere cosa scaricarlo si installa come un normale programma allora pesca il cable basta andare su google su google scriviamo davidog king root android andiamo sulla prima pagina king android root e qui eccolo qui e fate lo scaricate credo che c'era un'altra cosa come scaricate te ah se lo volete scaricare da un sito a parte o da kinko io vi cancello questo schiacciate questo e vi partirà sul sito di kinko il log speciale una volta che siete schiacciate sul verde il tasto verde download si aprirà da questa pagina e in automatico vi partirà dal download sul download file e vi scarica il pacchetto così vedete che ve lo dice vi scarica il pacchetto così voi lo installate come un normale programma accetta accetta l'argomento finish quando vi esce questo alla fine togliete questo che sarebbe il launcher subito voi lo tenete e fate una volta che l'avete installato riuscirà questo programma lo aprite fate si quindi e qua adesso parte quando esce questo connect attaccato il dispositivo io l'avevo già portato lo dovrebbe se ve lo leggi che vi da il vostro modello di telefono funziona se non vi da il il vostro modello di server vuol dire che non vi 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 a cui ci schiacciate sopra, inizierà la procedura diciamo, fa tutto da solo, non spazio anche il dispositivo per chi si muove le briccate, se le briccate non si tratta, dunque io ho sempre programmi, cerco di preparare programmi come fare il telefono, purtroppo fare l'ultimo non esistono, sponderai lo metto, è un stabile, finisci, adesso si vede che non me lo fa rifare, perché l'ho già fatto, comunque ragazzi che fate l'ultimo, l'ho lasciato fare, il dispositivo si riavvierà due volte, mi sembra, una o due volte si una volta che avete finito, che si è riavviato la seconda volta, o la terza, mi ricordo che comunque vi lascio il programma fine con virtualization, andrete nel menu del vostro telefono, la tab, quello che avete, vi sponterà l'applicazione su per su una volta che avete spuntato l'applicazione su per su, avete tutto il mostrato, bella, alla prossima se non avete capito, diciamo perché non lo spiegatevi un po' più bene, se non avete capito, ditemelo che vi passiamo al tuo programma, che è molto più semplice di questo, per esempio per fare l'ultimo su tutti i dispositivi ormai, perché ne sono tutte patiosi, bella, alla prossima